Torniamo a parlare del cimitero degli animali. Fu proprio la promessa di realizzazione entro il 31 dicembre 2015 a spingere il candidato dell'Italia del rispetto Fabio Aquilini ad appoggiare il sindaco Carlo Barbieri nella fase di ballottaggio con Aurelio Toriani alle ultime amministrative. Promessa che però a meno di un mese dalla fine dell'anno non ha ancora trovato realizzazione. Ho un po' una perplessità, un po' una preoccupazione perché dall'elezione diciamo dal mese di luglio ad arrivare oggi, questi in 4-5 mesi, siamo riusciti forse a identificare l'aria. Mi sembra un po' pochino secondo me. Aggiungo che rimangono 27 giorni alla fine dell'anno, io sono una persona positiva e mi auguro che, spero che tutto si possa realizzare. Sono una persona nella mia vita che mio padre mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato che prima di parlare bisogna avere la certezza di quello che si dice perché nel momento in cui non si riesce a garantire quello che si dice poi diventa pesante affrontare quella persona che ci ha fatto una promessa e non si è mantenuta. Io vivo così, quindi conseguenza nel momento in cui il sindaco Barbieri mi ha detto che entro il 31 dicembre realizzava il città dei mali, io sono assolutamente rimasto sulla mia esperienza di esistenza e di vita sul fatto di dire che sarà così, perché io sono abituato a fare così. Perché credo che nel momento in cui le promesse non vengono mantenute, anche le più piccoline, si perde di credibilità e questo io non voglio mai che le persone pensino che io non sia una persona retta e corretta. Da un punto di vista politico sottolineo semplicemente una mancanza politica, punto e basta. Poi cosa farò? Vedrò. Ma il cimitero degli animali è davvero una priorità per i cittadini? Io mi soffermo solamente all'interpretazione che mi arrivano da quelle persone che hanno firmato per la petizione. Il sunto finale è del fatto che consideriamolo come un'elevazione culturale, un qualcosa di nuovo che possa dare alla città questo spirito culturale, un'elevazione. Grazie.